Eccoci ragazzi ci siamo! Pronti per la Russia? Si vatti fare Italia! 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 Io mi metto anche gli occhi da sole Siamo un po' leggerini. No, no, in Russia fa caldo. Io ho guardato nel cambio comunque, ho il gibbotto, adesso vedrai, c'è un po' di roba dietro Andiamo a vedere l'Argentina e l'Islanda, ci vediamo. A dopo! Eccoci ragazzi in partenza Ci siamo, ci siamo, Italia, Italia, Islanda Vabbè comunque faremo qualcosa, faremo qualcosa, ci organizziamo Io lo vendo, vado a venderla Nevicherà presto eh Ma è proprio, pensavo peggio, pensavo peggio Pensavo peggio, specchati Ecco, c'è anche Antonio che ho pensato, fa compagnia al gattino questo Mi fa compagnia questo, ecco, come sta? Ma grazie, stai bene? Fa compagnia il gattino d'Antonio, guarda Così è ancora più di un caldo Ragazzi eccoci qua, stiamo andando a dormire A domani per il match, buonanotte Buonanotte Ma cosa fai? Dormi con la veneta di sto raro? L'ora di parole era finita Stefano, spazziamo eh Buonanotte ragazzi Eccoci ragazzi, siamo per andare Allora, innanzitutto ci siamo vestiti giustamente Allora, però lo mostriamo Balzaretti sei? Michele? Michele? Michele, io Stefano Sturaro Stefano Sturaro Sturaro Non so perché non avete convocato Pado Ecco, vedi, Gian Piero Padoine, lo vincevamo sto mondiale Non è che andavamo, lo vincevamo Lo dicono anche dalla Russia Siamo al Funny D Center Dove ci daranno forse Il pass per entrare Allo stadio Cina? One, two, three One, two, three Ok? Ecco qua Argentina 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 Ciao China China Suning 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 Mr. Lee Mr. Lee Mr. Lee Mr. Lee Mr. Lee Mr. Lee Queste fanno l'appello Intanto Ruiz Jaime Forza Prima avevano chiamato Banzai Mindire Banzai Ecco qua Alessandro Ufff, si ciazza qua La gente fa le foto con noi Andiamo prima che picchia Ci picchiano Ci picchiano Ragazzi, arrivati allo stadio Ci siamo Siamo arrivati Quattro Vogliono fare le foto con noi Ma perché ci scambiano per gli islandesi Con la magia Esatto Poi ci accorgono che è Italia Ridono Però sono tutti argentini Però adesso Poi se sei l'islanda Non si rida No, siamo un più islandese L'arte Ma, è un famoso italiano E speriamo poi l'Italia al mondiale No? Argentina Ora Ora Argentina Papu Gomez Papu Gomez Poi è arrivato al mondiale E' arrivato al mondiale Scusare numero 27 Scusare numero 27 Scusare numero 23 Scusare numero 23 Caranocchia E' arrivato al mondiale Scusare numero 27 Scusare numero 28 nazionali questa sera cometerà com coro rocco com coro rocco questa sera cometerà com coro rocco Presidente, Higuaín non gioca Gioca, è panchina E goto che non gioca Ciccioli avrà mangiato troppo il Russia Di bala! Di bala! Di bala! Gioca di bala! Di bala! Gonzalo! Gonzalo! Anche Gonzalo è portato! Oh my god! Oh my god! Basta! Basta! Oh my god! Panama è giù! Panama è giù! Panama è giù! Casa Argentina, primo tempo! Guarda qua, disperate! 1 a 1 eh! Sembra prematuro disperarsi così! Arrivata tanta roba! Unore per l'Argentino! Tanto quello che tira è scarso! Messi contro Dichini! Barato! 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 Amore! Ma l'è in MoSíM feel ha giocato il tanto è entrato hai guai m secondo me! Adesso in pipita, Bozzelo, Bozzelo, attacca lo spazio, c'è la pizza, Mangiano pizza, c'è la pizza, c'è la pizza, non riprendete, senti, senti. Il primo punto della storia dell'Islanda è l'Uniano, mai qualificato. Ecco qua, entusiasmo, eh, Islana, Giorgio. I stelle, i tifosi, i sandesi, l'Argentina, l'Argentina un po' tristi. Messi sbaglia il rigore nella giornata in cui Ronaldo fa tre gol. Il destino a volte è beffardo, beffardo, beffardo. Ragazzi, giornata piena ieri, eh, bella piena. Cioè, sta dato dentro l'amico, eh. Soprattutto la serata. Sta dato dentro, intanto inquadriamo anche altri aspetti, diciamo, della Mosca Bene. Della Mosca Bene, molto bene, eccola, sgamati, beccati, beccati. Andiamo al Hyundai Motor Village. Ragazzi, le maglie del mondiale. Sì, c'è l'Italia più avanti, eh. C'è l'Italia? Sì. Eccole, eccole. Scorri, scorri, scorri. Eccolo, Panama, Panama, Panama. Vamos, amico, Panama more. Dov'è, dov'è? Qua, vedi? Qua ha lasciato lo spazio nero, qua, di fianco, per mettersi l'Italia. Il muro sui sui su tutti, le nazionali scrivono. Il Paroto, il Campo, la Polonia, le altre. E poi c'è il fatto di Vadovino. Ecco qua. Tutto il mondo deve sapere, all the world. Ragazzi eccoci qua Fai vedere bene Alla basilica di San Basilio Bellissimo c'è il cremlino lì San Balesioschi Ragazzi noi vi salutiamo Siamo orgogliosi di aver portato l'Italia e i mondiali Vi aver portato Sturano Ranocchia, Bazzaretti Il nostro mondiale l'abbiamo comunque fatto Grazie eh Ci vediamo in Italia Ciao a tutti Eccoci ragazzi Arrugati Italia terra nostra ce l'abbiamo fatta Più vai via più ti piace l'Italia Ce l'abbiamo fatta Fammi baciare il terreno Ragazzi mi raccomando mettete like al video Commentate qui sotto Secondo voi quale sarà la finale Dopo questi primi giorni di mondiali Avete già capito Ci sei giudica Quale potrà essere la finale Al prossimo vlog Ciao Ciao Grazie a tutti Ciao